Mi piace molto il potermi sentire utile, forse è un mestiere molto simile per esempio a chi fa il medico o comunque a chi fa qualsiasi tipo di volontariato. In ricerca forse aiuti negli step primitivi proprio, parti dal piccolo per poi cercare di avere qualcosa di gigantesco alla fine. Siamo un gruppo molto giovane e questo forse è uno dei dettagli che più ci fa piacere anche tra di noi, perché sembra qualcosa di molto scontato, però condividere l'ufficio con coetanei fa veramente la differenza, perché è un gruppo che ti permette anche di gestire al meglio forse lo stress, perché trovi sempre qualcuno con cui scambiare quattro chiacchiere o con cui anche confrontarti nelle difficoltà che ci sono sempre. Ci sono esperimenti che non arrivano, che non vengono, però c'hai sempre un compagno con cui confrontarti. Il nostro sicuramente è un team molto diversificato e questa forse è la chiave di forza ed ognuno di noi ha una capacità specifica nell'effettuare determinati esperimenti e nell'effettuare determinate ricerche. Io ero presente nel momento di lettura della prima piastra che esprimeva questo anticorpo che volevamo esprimere. Io mi ricordo che c'è stato un momento in cui tutti si sono guardati e non sapevano se ridere, piangere e quindi si è deciso per l'abbracciarsi di tutti e basta, perché obiettivamente funzionava e quindi finalmente potevamo davvero andare avanti con tutto quello che eravamo riusciti ad ottenere fino a quel giorno, quindi avevamo avuto la prova finale e è stato veramente un bel momento quello sicuramente. Io insomma ricordo giorni dove eravamo magari il sabato in laboratorio, non abbiamo mai detto di no a venire anche nei giorni festivi perché sapevamo che ogni pomeriggio in più che passavamo era un pomeriggio in meno magari da attendere per avere una possibile cura. Grazie